Allora, di cosa dobbiamo parlare oggi? Sì, di questo. Oggi abbiamo tre trucchi per avere un mindset di successo. Ciao, io sono Micosentino, benvenuto all'interno del mio canale. Se è la prima volta che guardi un mio video, complimenti, benvenuto. Metti un subscribe, iscriviti, schiaccia quel like perché questo video potrebbe veramente cambiare la tua vita. E non lo dico tanto per fare il figo, ma lo dico sostanzialmente perché se avessi sentito queste cose circa dieci anni fa probabilmente la scalata verso il successo che potrei aver raggiunto magari oggi, nonostante io sia convinto di non aver ancora raggiunto neanche il 5% di quello che voglio raggiungere all'interno della mia vita, ma ci sarei arrivato molto più velocemente. Quindi ascoltami attentamente perché il discorso mindset è un discorso molto sottovalutato, ma che in realtà potrebbe fare un'enorme differenza all'interno della tua vita nel momento in cui capisci quali sono i tre trucchi principali per azionare il tuo cervello e far sì che le tue azioni siano congruenti con quello che il tuo inconscio ti dice. Allora, partiamo subito in quarta. Dunque, il primo trucco per riuscire ad avere un mindset di successo in grado di farti ottenere i risultati che ovviamente ti sei prefissato e anche oltre è immaginare quello che vuoi raggiungere. Lo so, potrebbe essere un trucco, non trucco, un barbatrucco, però in realtà immaginare prima di ottenere qualcosa quello che vuoi ottenere è una delle chiavi che mi ha permesso di raggiungere quello che magari ho oggi, ma che anche quando ero un notatore professionista mi ha permesso di raggiungere la stragrande maggioranza dei risultati che ho ottenuto. Vedi, le persone sono assolutamente brave a immaginare il negativo che può accadere all'interno della propria vita, ma sono delle frane totali quando si tratta di immaginare qualcosa di bello. Prova a pensarci, quante volte ti è successo di immaginare magari un avvenimento brutto che sarebbe potuto accadere all'interno della tua vita se avessi fatto una determinata azione, come ad esempio, immagino di intraprendere un'attività imprenditoriale, immagino di avviare il mio business online, immagino di investire i miei primi soldi all'interno di un NFT e via dicendo, e quello che inizi a immaginare è tutta una serie di cose negative che iniziano a farti sudare le mani, che iniziano a farti strizzare i peli del culo e che iniziano ad immobilizzarti. Ok, pensaci. Perché questo accade? Perché il nostro cervello non è in grado di immaginare, non è in grado, scusami, di differenziare una situazione vividamente immaginata da una situazione realmente vissuta. E quindi quello che succede all'interno del tuo corpo e che ti fa sentire questa sensazione brutta di disagio, che ti fa strizzare i peli del culo, che ti fa andare in giro così e non sai più come uscirne, è dovuto proprio dalla tua grandissima capacità innata di immaginare le cose. Noi siamo bravissimi ad immaginare le cose, ma siamo delle capre ad immaginare le cose positive. Mentre siamo eccellenti, siamo dei fenomeni di immaginare le cose negative. Quindi prova a pensare a questa cosa per un attimo. Tu sai già immaginare vividamente qualcosa, sentendolo dentro il tuo corpo come se fosse già successa quella cosa, ma non lo sai fare in positivo, lo sai fare in negativo. Il primo trucco per avere un mindset di successo è allenare la tua mente ad immaginare positivamente tutto quello che potrebbe accadere nel momento in cui il tuo obiettivo sarà raggiunto. Immagina il tuo obiettivo già raggiunto, ritagliati almeno 10 minuti, 15 minuti, inizia con poco, 10 minuti ogni singolo giorno per chiudere gli occhi, stare da solo con te stesso, stare da solo con la tua mente e immaginare vividamente il risultato che vuoi ottenere già ottenuto. Ok? È già tuo. Hai già i soldi che vuoi, hai già il successo che vuoi, hai già il business online magari che vuoi e che ti sta togliendo un sacco di soddisfazioni, magari hai già fatto quei soldi nel mondo degli NFT che vorresti avere e via dicendo. Immaginalo. Immagina come se fosse già accaduto, come se tu stia già vivendo quelle sensazioni. Devi avere la capacità di immaginare vividamente questa situazione bellissima all'interno della tua vita e devi sentirlo con tutti e cinque i sensi. Ascolta che cosa sta succedendo, cosa ti dicono le persone, ascolta, guarda che cosa stai guardando, come le persone ti vedono, qual è lo sguardo che le persone hanno verso di te, oppure senti i profumi, quali sono i profumi che hai la possibilità di sentire nel momento in cui hai ottenuto quel risultato, oppure qual è quel gusto che puoi provare quando magari vai a festeggiare in quel ristorante stellato il raggiungimento del tuo obiettivo con le persone che ami. Immergiti all'interno di questo scenario che non è nient'altro che il risultato che hai già raggiunto, il risultato che vuoi ottenere che hai già raggiunto. Questo è il primo trucco, è molto complesso da fare, sono onesto, perché ci vuole la ripetizione e le persone sono delle capre a ripetere incessantemente quello che ancora non gli ha portato nessun tipo di risultato. Le persone pensano sempre, ah vabbè, è facile parlare e immaginare le cose positive dopo che sono successe. No, non funziona così, tu devi essere in grado di immaginare per poter attrarre. Il secondo trucco per riuscire ad avere un mindset di successo è non pensare che tutti coloro che oggi stai guardando e che hanno già i risultati che vuoi ci siano arrivati grazie a una botta di culo o ci siano arrivati grazie a un barbatrucco di cui tu non puoi entrare in possesso. Non è così. Lo so, c'è qualcuno che potrebbe essere fortunato, però in realtà se vai a guardare, i ricchi di prima generazione sono la maggior parte delle persone ricche lì fuori. Quindi cosa vuol dire di prima generazione? Sono persone che non hanno ereditato il denaro, lo hanno fatto, ok? Lo hanno fatto all'interno della mia famiglia, io sono il primo milionario che è riuscito a concretizzarsi e realizzarsi da solo, ok? Sono di prima generazione. E quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è possibile fare i soldi, è possibile toglierti le soddisfazioni che vuoi toglierti anche a livello economico, per il bene tuo, per il bene della tua famiglia e via dicendo, oppure per far rimangiare a tutte le persone che non hanno mai creduto in te tutto quello che ti dicevano quando tu ci provavi ed eri magari lì messo all'angolo da solo? Fatto sta che puoi riuscirci. Il trucco qual è? Beh, devi cominciare a capire che se una persona ce l'ha fatta, puoi farcelo anche tu. Lo so, potrebbe sembrare qualcosa di banale, potrebbe sembrare qualcosa che le persone potrebbero prendere in giro, potrebbero prendere questo video e utilizzarlo come un meme e dire «Oh, sì, le persone ce l'hanno fatta, puoi farcelo anche tu, devi crederci, devi crederci!» È così, cioè che vi piaccia o non vi piaccia, è così, ok? È così. Lo abbiamo visto in qualsiasi tipo di sport, ogni record che si è battuto, che magari per 10, 15, 20 anni nessuno era stato in grado di battere quel record, nel momento in cui è stato battuto, poi guarda caso quella è diventata la normalità. Guarda caso tanti atleti poi ci sono riusciti, perché? Perché la testa, se è in grado di capire che qualcuno ce l'ha fatta, allora andrà a cercare qual è il sentiero che quella persona che ce l'ha fatta ha seguito per riuscire ad ottenere quel risultato. Quindi, se c'è una cosa che mi ha aiutato tantissimo durante il mio percorso imprenditoriale e che mi aiuta tuttora, è questo atteggiamento mentale, che è il secondo trucco, ovvero se una persona ce l'ha fatta, posso farcela anche io. Non importa quanto ci vorrà, devo solo capire qual è il cazzo di sentiero che questa persona ha seguito e cercherò di seguirlo. E ti svelo questa straordinaria cosa. Le persone di successo, soprattutto quelle di prima generazione, sono felici di condividere il proprio percorso. Sì, sono felici di condividere il proprio percorso. Ok? Spostiamoci al terzo trucco. Sei pronto a sentire il terzo trucco? Fammi sapere qui nei commenti. Scrivimi qua nei commenti. Il primo trucco è difficile per te. Il secondo trucco è difficile per te. Fammelo sapere qua. Fammi sapere. Impegnati con te stesso mentre guardi questo video. Non guardare questo video inerme. E magari ci sono mille, duemila, tremila persone che guardano questo video e poi quattro che lasciano il commento. Perché? Perché ci avete le dita che sono lì così e non sapete cosa fare. Dovete agire. A cominciare da questa serie di azioni piccole che sono facili da fare ma altrettanto facili da non fare. Dunque, il terzo trucco in realtà è molto più semplice quello che si potrebbe pensare. Però in realtà è cercare di capire che cosa io posso fare oggi per spostarmi di un millimetro in avanti verso il mio obiettivo. Questo è il terzo trucco per avere un mindset di successo. Le persone sono straordinariamente brave a sopravvalutare quello che potrebbero fare da qui al prossimo anno, ma sono pessime, sono delle capre ad immaginare quello che invece potrebbero fare da qui a dieci anni. Quindi cosa vuol dire? Che sopravvalutano ciò che potrebbero fare nel breve termine ma sottovalutano quello che potrebbero fare nel lungo termine. Perché fanno questo errore? Perché noi vogliamo avere tutto subito. Il tutto subito non funziona. Più cercherai di avere tutto subito e più quel tutto si allontanerà inesorabilmente. Questo vale nel business online, vale nell'infomarketing, vale nel mondo degli NFT, vale nel mondo delle crypto e via dicendo. Le persone fanno un'azione e si aspettano che immediatamente quell'azione produca una reazione possibilmente positiva. Ok? E se non produce una reazione positiva, allora quell'azione che hanno fatto praticamente la vanno a cancellare. Dicono, ah no, vedi, allora sta roba non funziona. Sta roba non serve a una fava. Non è così, sei tu la fava. Perché non si ottiene nulla di solido in breve tempo. Ogni singola cosa che io stesso oggi ho costruito, l'ho costruita perché ogni dannato giorno ho aggiunto un piccolo blocchettino alla piramide dei miei successi. Sembravano delle cose minuscole, sembravano delle cose inutili quasi e tante volte sembrava durante l'arco di una settimana o di un mese di andare magari tre passi avanti e poi quindici passi indietro. In realtà non è così. In realtà se guardi le cose da un punto di prospettiva macro, ok, ti renderai conto che ogni singola cosa che hai fatto con il tuo focus verso l'obiettivo è un piccolo mattoncino che hai messo e che hai poggiato nelle fondamenta del tuo successo, nelle fondamenta del tuo futuro. Questo dal mio punto di vista sono i tre trucchi che mi hanno permesso di costruire, di creare un mindset di successo e sono tre cose sulle quali mi focalizzo sempre. È facile perdersi nella routine, è facile cercare di volere le cose subito, è facile cercare di, cioè è facile abbattersi quando facciamo un'azione, quando facciamo fatica e nonostante tutto cazzo quel risultato non arriva, però ti assicuro che se guardi le cose da un'altra prospettiva, da una prospettiva macro e guardi lo scenario lungo termine e continui nonostante tutto a fare quelle azioni ogni singolo giorno che possono essere pesanti, che possono essere pallose, che possono essere stupide dal tuo punto di vista, ma ti assicuro che quel singolo mattoncino un giorno farà la totale differenza e sarai un mattoncino più sopra rispetto alla maggior parte delle persone che oggi magari ti prendono in giro quando fai una determinata cosa. Questo avviene in ogni singola cosa. Prova a guardare anche l'atteggiamento mantale che magari hanno le persone che perdono soldi all'interno del business online. Provano a creare un business online, magari creano un videocorso sulla base della propria passione perché hanno visto che altre persone ce l'hanno fatta e poi creano un funnel, provano a prendere magari soluzioni di qua a destra e manca e poi magari fanno tutte quelle azioni che gli hanno detto di fare però non vedono risultati subito, lanciano le proprie campagne e vedono tutte le robe perdenti, lanciano il proprio funnel e non succede un cazzo, fanno le proprie chiamate, seguono lo script e non succede niente, lo script di vendita e non succede niente. Si abbattono e tornano a fare quello che facevano prima con la coda tra le gambe, con il pensiero del, ah ma sono tutte cazzate queste robe non funzionano e io già lo sapevo, io già lo sapevo. Quindi loro hanno fatto tutta questa serie di azioni pretendendo un risultato nel breve termine ma l'hanno fatta con l'inconscio che gli diceva vedrai che questa roba qua non funzionerà e l'inconscio ti darà sempre ragione caro mio, l'inconscio ti darà sempre ragione, qualsiasi cosa che vorrai fare e qualsiasi cosa farai, se non è in accordo con quello che è il tuo inconscio, il tuo inconscio avrà sempre ragione. Ecco perché dobbiamo tornare al punto 1, al punto 2, che scrivimi qua nei commenti trucco 1, trucco 2 qual è, vediamo se sei stato attento. Oppure un altro errore che viene fatto è nel mondo degli investimenti, guarda ad esempio gli NFT, una persona magari acquista un NFT e si aspetta che questa NFT esploda da un momento all'altro, non è così, non è così e si fa prendere dal panico se magari c'è una correzione di, oddio, oddio, sto perdendo i soldi, sto perdendo i soldi, fammi vendere, meglio perdere due che perdere ancora di più. Dove vuoi andare con un mindset del genere? Questo perché succede? Perché tante volte le persone magari fanno delle azioni in maniera non congruente con il loro inconscio, lato business, oppure lato investimenti, investono una cifra che non sono disposti a lasciare lì, in pace, come se non fosse più loro. E la cosa entusiasmante è che quando ti cominci a sganciare da tutto questo e cominci a guardare le cose a lungo termine e non stai lì ogni giorno a vedere se entra la vendita, entri, cliente, oppure il floor price è aumentato di 0.1 o non è aumentato il floor price di 0.1, quando non guardi più queste robe e cominci a guardare il lungo periodo, ti assicuro che la tua vita cambierà inesorabilmente in positivo, te lo posso garantire perché è stato così anche per me, sia lato business, sia lato investitore e ti assicuro che questi sono i tre segreti che nel momento in cui li inizierai ad applicare all'interno della tua vita ti toglieranno un sacco di soddisfazione. Fammi sapere qui nei commenti cosa ne pensi, se hai delle domande fammele e magari ci faremo un altro video. Tanto vi dovevo.